Ma devi registrare solo l'audio adesso Giuseppe non ridere perché c'è qualcuno che ti guarda E che ti riprende e non devi chiudere mai gli occhi E non devi rischiare di sbagliare le parole perché le stai inventando E ricorda di non parlare in pugliese Perché mi sento un pirla, capito? Sono un pirla e sto qui davanti a voi perché sto inventando una canzone sul momento Perché devo fare questo video davanti a voi e devo ricordare di non chiudere mai gli occhi E allora canto di continuo perché sbagliando la dizione il dialetto fa pur bene Ma a me che canto in martinese non me ne frega niente E allora dico che canto adesso Invento ancora non sono un rapper e allora che faccio? Allora neanche un pianista però canto lo stesso E in tutto questo devo ricordare di non chiudere mai gli occhi Ma gli occhi perché mi stanno riprendendo E quindi mi devono guardare nelle palle degli occhi E allora che faccio? Non so più che altro dire Però è figo perché sto in una radio importante E allora continuo Allora non so più che dire Ciao Salvatore Ciao e scusate questa schivezza